buongiorno da btv news oggi 14 gennaio san felice da nola oggi si celebra il world logic day ovvero la giornata mondiale della logica proclamata dall'unesco il 14 gennaio è una data che lega due importanti logici matematici del secolo scorso kurt godel e alfred taxi il primo infatti morì 14 gennaio del 1978 lo stesso giorno in cui nel 1902 nacque il secondo oggi anche la giornata nazionale delle farinate bianca di ceci di zucca e la giornata mondiale del lot pastrami sandwich preparato con carne di maiale di montone o di manzo tra le persone nate oggi annoveriamo albert schweitzer nato nel 1875 uomo di alto ingegno di straordinaria generosità mise la sua abilità di medico al servizio dell'umanità più debole e giancarlo fisichella 1973 pilota